Musica Ben ritrovati, ben ritrovati nei nostri studi di Delta TV. Come sempre lo sapete è l'appuntamento settimanale dedicato all'arte, quindi chiaramente quando parliamo di arte parliamo anche di artisti. Nel loro più disparati generi, perché può essere come dicevo l'altra volta, per esempio scorsa settimana abbiamo avuto una fotografa, abbiamo avuto degli scultori, abbiamo avuto dei pittori. Insomma tutto quello che poi riguarda l'arte, che non è detto che sia dovuta per forza essere una tela, come oggi per esempio non vi svelerò ancora che abbiamo qui nei nostri studi, oppure possa essere su una ceramica o su quant'altro. Tra l'altro oggi l'artista che abbiamo è abbastanza poliedrico perché è artista in tutto e per tutto, quindi fa tantissime cose, avrete modo di scoprirlo insieme a me perché andiamo subito a presentarvi Umberto Colapinto in arte Kuber. Benvenuto carissimo Umberto, come ti devo chiamare? Kuber, parliamo di arte e parliamo di Kuber. Parliamo, intervistiamo oggi l'artista, poi voglio dire noi ci siamo conosciuti anche a livello umano nel senso come Umberto, però è giusto insomma in questo contesto parliamo di arte e quindi parliamo di Kuber. Senti, in questa piccola mezz'ora, perché purtroppo il nostro tempo è ristretto, ci concedono poco tempo, vorrei cercare di sapere qualcosa in più di te, indipendentemente dalle solite domande che si fanno ad un artista, mi piacerebbe a volte scoprire anche qualcosa di diverso, di più che magari tutti gli altri basta che leggono una biografia e sanno. Intanto, vabbè, vorrei capire come è nata questa tua passione, se sei autodidato, se sei nata da quando eri piccolino, insomma come ti sei accorto anche che eri un artista dentro? Diciamo che nel campo dell'arte nulla nasce per caso, se uno intraprende questa via è perché c'è una certa predisposizione nella persona, magari non ce ne accorgiamo, ma ce l'abbiamo, ognuno di noi ha delle predisposizioni verso qualcosa. Beh, io di questo me ne sono accorto già dalla mia più tenera età, già da picco nelle scuole elementari, disegnavo, scopiazzavo, mi piaceva tutto quello che era bello vedere, mi piaceva trasportarlo su un foglio di carta con la mia matita, però non la pensare di dover diventare un pittore, un artista, le cose che fanno un po' tutti a quell'età. Poi ho intrapreso la mia scuola, ho intrapreso la scuola tecnica, io sono un perito meccanico, e caso strano, ero abbastanza bravo nel disegno tecnico, quindi in famiglia non si faceva altro che parlare della mia bravura nel disegno. Quando si diceva, eh, Umberto è bravo nel disegno, infatti io, la mia media, diciamo, perché una volta si prendeva la borsa di studio per la media dei voti, io raggiungevo questa media per prendere questa borsa di studio grazie all'educazione fisica, al canto e al disegno, che avevo sempre nome, e qui mi aggiustavano le materie in cui beccavo. Quindi è venuto fuori. Un anno una mia cugina, molto brava alla scuola, a fine anno scolastica ha dovuto fare un concorso di pittura per la scuola. Lei, pur essendo brava e capace, cosciente dalle proprie forze, era un po' impacciata, perché dovendolo fare a casa, diceva, ognuno si farà aiutare, e quindi aveva paura di non farcela. La mamma, nonché mia zia, ecco, nella sua buonarietà, mi dice, ma dai, non te la prendi, vai da Umberto, lui è bravo in disegno, ma in disegno, ma non la pittura, quindi, però dall'alto della mia generosità, senza... Per aiutarmi, insomma. Ma dai, ti faccio vedere io, ti faccio fare il primo premio, così, per incoraggiarla, perché la ragazza era così. E già di là ho visto che, perché la scelta del soggetto è già importante, che non avendo nessuna cognizione del colore, andai su una rivista e presi la figura di due galline americane, quelle tutte varie opende, da combattimento, che si beccavano. Anche difficile da realizzare, voglio dire, è più facile che fosse un paesaggio. Ma poi preso dal colore, dal colore, e gli feci questo disegno, questa pittura, su di un vetro, che fece il primo premio. Da allora, insomma, nel momento in cui mi sono sposato, mi trovavo a Pavia, quindi avevo le pareti bianche, e dovevamo permettere qualcosa. Allora non so se è stata una fortuna o una sfortuna. Con mia moglie mi sono portato a una galleria, in Botticella, di Pavia, una delle più famose, era abbastanza... Dove si esponevano dei quadri un certo fontana, che faceva dei paesaggi di luce, non quello del concetto spaziale, un certo, un altro fontana, che faceva degli spaccati di luce, molto bello, ecco, tipo caraggesco, però ancora più luminosi. Fui colpito, fui colpito e chiesi, per curiosità, il costo di un 40,50. Nell'ontano 1970 mi chiese esattamente il triplo di quello che era il mio stipendio, da ferroviere, che era già buono. Non avevo... ecco, non hanno scoperto nulla adesso, quando vengono e chiedono il prezzo, e dico, ah sì, anche se è troppo, io già l'avevo fatto allora, per non far vedere che ero impressionato, o non lo valeva il quadro. Chiaro. Buono, dico, ci ripasso. Allora ho avuto così una sferzata. Dice a mia moglie, immaginai che tutti i quadri costassero così tanto, è stata così tanta la paura. Ho detto, allora io non avrò mai dei quadri in casa mia. Me li faccio. Me li faccio io. Tanto, ero bravo in disegno, l'ho fatto a mia moglie, mi metto là. E incominciai a scopiazzare dei pittori, addirittura, strappavo i manifesti dalle pareti e copiavo questo pezzo di giornata. Un signore, amico mio, un ingegnere che abitava da me, e che prendevamo sempre il caffè, un giorno mi fa un po' la scoperta dell'uovo di Colombo. Dice, scusa Umberto, vedo che sei abbastanza... Io ti ascolto piacevolmente e nel frattempo guardo i tuoi quadri, perché vedi? Allora, mi fa... hai dei miei colori, delle belle cose, però perché copi i quadri? Quando, essendo un paesaggio tu quello che prediligi, fai delle foto tue, che tu hai già impressionato, non puoi dire il quadro è copiato da Tizio e Caglio, ma è un'opera tua fatta da te. Giustamente, devo copiare la fotografia di un altro metto, me la faccio io la foto. Ed allora è iniziato questo discorso della pittura, è iniziato a dipingere. Io nella mia vita non faccio mai una cosa così giusta per farlo. Quando intraprendo un discorso, cerco di portarlo a termine nel miglior dei modi, quelle che sono le mie capacità e quello che posso dare. Ci ho creduto, mi sono impegnato, e tra di noi, tra la gente, tra un treno e l'altro, ci si fermavano le stazioni, e un giorno compravo la cornice, un giorno compravo la tia, si è sparso la voce, Umberto l'artista, Umberto il pittore, Umberto così. Quindi, siccome mi chiamavano artista, pittore, dovevo dare, perché nel momento in cui poi, ma fammi vedere, subentravi il mio orgoglio, e che li faccio vedere, ecco l'impegno, incominciai ad impegnarmi. È nato così un discorso, alcuni amici che mi hanno conosciuto, hanno cominciato ad invitarmi nelle varie mostre, e sempre con questo impegno ho avuto una bella fortuna. Devo dire che, da pittore, le mie cose sono andate abbastanza bene. Ho avuto una bella notorietà, sono andato avanti nelle vendite, in tutto. In tutto, infatti. Non posso, in tutto, perché ci credevo e vendevo. Poi, un bel giorno, ho voluto dare una sferizzata, perché ero un po' geloso, quando, stando con gli altri amici artisti nei vari workshop, nei vari eventi che si facevano, e chi ti faceva lo schizzetto a un planer, all'estante, in estemporanea, e chi faceva qualcosa. Io dico, ma porca miseria, io devo per forza guardare la fotografia? Ma io non so fare, allora non sono un artista. Ecco, incominciavano i miei dubbi. I tuoi dubbi. Tanto, non mi costa niente. Allora, cosa incominciai a fare? Intanto, io ero un pittore, come dicevo prima, un planer, in estemporaneo, mi piaceva molto, perché venivo affascinato quando vedevo questi pittori per la strada, col caballetto che dipingevano. I classi pittori in strada, che però vede delle cose straordinarie. Perdevo dai giornati interi a guardare queste cose. Ecco, quindi affascinato, ho intrapreso anch'io questo tipo di, infatti mi chiamavano il pittore dell'estemporaneo, non me ne perdevo uno, ma non per il prevo, ma per il gusto di dipingere tra la gente. Si familiarizzava, si entrava nelle case delle persone, ti offrivano da mangiare. C'è una vita così bella, che mi sono veramente... Proprio per il contesto, per l'aria che si respirava. Dico, ma guarda che bella vita si sta aprendo davanti a me, il campo dell'arte, quindi ci ho creduto. E un giorno, ecco, mi sono posto questa domanda, ma io se non guardo la foto, se non vedo un qualche cosa, di mio, cosa so fare? Allora ho preso una bella tela bianca, l'ho piazzata lì su caballetto, e la prima cosa che è venuta fuori, qual è stata? Non è il soggetto, il campanile, la natura morta, la cosa. Quello che ho notato, i colori. Ah, chiudica. Qui ho tutta questa marea di colori dentro di me e non li metto, perché quando facevo l'estemporaneo, nei vicoretti del centro storico, questi muri grigi, andavo a riprendere quelle di altri. Potevo avere delle tonalità un po' diverse, ma erano sempre grigi. Invece avevo dentro di me questi colori primari, questi bleh, questi rossi, questi gialli, che rappresentavano, poi facendo un esame, rappresentavano il mio carattere, che sono un carattere molto positivo. Che se ne dica io? Molto colorato. Molto colorato. E quindi, ecco, è venuto fuori, senza volerlo, mi sono un poco, ecco, è emozionato già io stesso nel vedere questi colori. Non mi interessava cosa rappresentava. Infatti, ci sono dei momenti in cui, finisco un quadro, me lo guardo, e basta. Dico, va bene così, mi piace, ma non so perché, perché non so nemmeno che cosa rappresento. Poi vado a scovare dentro, cerco di sfruttare quelle che sono le venature, le colature dei colori, per creare, fare una specie di mosaico, creando quello che è il paesaggio, perché il mio tema predominante, il tema predominante delle mie opere, è il paesaggio. perché io, ecco, viaggiando, come dicevo prima, da macchinista delle ferrovie, ecco, questo paesaggio l'ho visto in lungo e largo, di corsa, di sfuggire, l'ho visto in tutti i modi, quindi mi è rimasto impresso nelle sue varie tonalità. E quando faccio le mostre, come tema, infatti, la cosa che a me è più difficile, è il migliore e più difficile, è dare un titolo alle mie opere. Allora, per me sono tutti paesaggi. Allora, metto l'arte, il prodigio della luce e del colore, che diventa paesaggio. Cioè, il paesaggio non più copiato, ma interpretato. Per quello che io sento e quello che vedo. Per quello che io sento e quello che vedo. È un'interpretazione. Quindi non ti chiedo a questo punto quali sono i tuoi colori preferiti. Cioè, si vedono il colore. Il colore, il colore, tutto quello che dà luce, che dà forza, che dà tutto, perché il colore è una terapia. Ormai è pesata. Esiste, appunto. Come terapia, assolutamente. Come esiste la musica o la petterapia degli animali, eccetera. Esiste anche la terapia del colore. Esiste, la terapia del colore. A me fa bene. E quindi, trasmettendolo agli altri, penso che faccia altrettanto bene. E i risultati positivi di questi messaggi, io li noto perché giro. Sono sempre a 360 gradi tra gli artisti, artisti di un certo nome. Sì, perché poi, insomma, non ne abbiamo parlato in questo contesto, ma tu, oltre a essere un artista, ti occupi anche di organizzazioni, di altre cose, di altri artisti. Sì, sì. Io sono un presidente di un'associazione culturale che prende il nome dal mio pseudonimo, Cuberart. Essendo un'associazione ONUS senza scopo di lucro, quello che noi, che io, diciamo, poi in collaborazione con i miei soci, ci prefiggiamo, è quello di portare alla ribalta, se è possibile, degli sconosciuti, che dicono di essere sconosciuti. Ma sono sconosciuti solo sulla carta perché non hanno la possibilità di portare avanti quelle che sono le loro forze, quelle che sono i loro valori. E quindi noi li mettiamo fuori perché portare avanti un pittore già qui non è compito nostro. Ci sono i vari galleristi, i vari critici, le cose che sono... L'associazione, invece, dovrebbe avere questo compito di mettere, fare e saltare quei geni, perché diciamo geni, perché a volte io vedo delle persone così umili, e l'umiltà è dei grandi, che dicono se ho fatto qualcosa mi dai un'occhiata. E c'è veramente... E ti inchini davanti. Forse da imparare. Ah sì. Io te ne do due occhiate, dico io, bravo, brava, secondo se è un uomo o una donna. E veramente rimango esterefatto nel vedere quanta gente brava, brava, brava. E qui c'è da mettere un po' un vero pietuoso. Perché il nostro campo non è così bello come lo sto descrivendo io. che vedo il pittore e la pittrice in un modo positivo perché bravo. Facciamo una faccia davanti e una di dietro. Dobbiamo dire le cose un po' come stanno perché c'è un po' di gelosia. Un po' di gelosia fra artisti. Ma credo in tutti i campi, anche nel mondo della televisione. Perché ognuno di noi, essendo la pittura qualcosa di molto soggettivo, ognuno di noi crede di essere il massimo. Allora quando vediamo un'opera fatta bene, invece di dire mamma mia quanto è bello quell'opera. Non è per tutti, ci mancherebbe altre eccezioni. Non si può fare di un ero un fascio. Ecco non voglio ne condannare. Però in linea di massimo cerchiamo di trovare la scorsa. Sì, però quella è una stampa. Un difetto magari. E quella ha copiato. Ma quella è la vista sopra. Ma lasciamolo stare. Quelli sono problemi dell'artista. Perché l'artista sa se ha copiato, già sta soffrendo lui o lei dentro di sé che sta proponendo un qualcosa che non è di suo. Non andiamo noi a dire delle cose che non ci interessano. Noi guardiamo, valutiamo quello che stiamo guardando e cerchiamo di essere propositivi e positivi in questo senso qua. Quindi dobbiamo della vita, di tutte le cose, bisogna prendere quello che di più è positivo. Le cose negative lasciamolo perché quelle arrivano a cercare. Quindi questo voler bene a te e voler bene agli altri fa sì che tu vai avanti sempre. Io quando organizzo delle mostre o degli eventi particolari, dei workshop che abbiamo fatto sul Gargano, ad Otranto, abbiamo, ripeto, sono sempre impegnato perché mi piace e l'impegno quando una cosa si fa con la passione, con l'impegno non ti stanchi mai. A voi che dico è sempre l'ultimo anno, è l'ultima mostra, dicono tutti così. Poi non ce la fai. Però se uno non appena si esce di qua e ti incontri l'amico, guarda avevo pensato di sì a disposizione e finisce tutto. Certo. L'abbiamo nel sangue. Quindi dicevo, quello che è il compito della mia associazione è quello di portare avanti questa gente che ce ne sta veramente di valida, valida, valida e quest'anno nei programmi futuri che io ho sto facendo forse è la prima volta che faccio una selezione perché siamo arrivati al punto che tutte le mostre che noi facciamo non facciamo altro che un controconfronto fra artisti, il fruitore, l'appassionato, il familiare, la gente interessata all'arte non c'è più, sta sparendo. È vero, l'arte purtroppo sta... Purtroppo ci sono tanti problemi, tante cose, però questo è un periodo quando si parla crisi dell'arte, se forse la crisi dell'arte mi va ancora bene, ma non degli artisti. Sta a noi artisti tenere accesa questa fiammella perché diciamo che l'economia di ogni nazione si basa sulla cultura. Perissimo. Se noi i cultori dell'arte già voi vi arrendete alziamo le mani è finita. Allora loro parlassero di negatività, di crisi, noi siamo artisti e non è la crisi economica che ci deve fermare. Venderemo meno quadri, lasceremo ai posti di più quadri, però ecco in concomitanti io sto notando questo, che con la crisi sta aumentando il numero delle persone che si avvicinano all'arte. Questo l'ho notato anch'io, ne parlavamo prima e poi credo che tu con questa associazione ne sai sicuramente lo vivi ancora più di me. Ecco sì, ognuno si pensa perché intanto noi dobbiamo subire Ma può essere che tutti perché poi la spiegazione che ti danno è che cercano di mettere se stessi dentro quindi si buttano No io voglio essere ancora più positivo come lei Io invece vedo io la vedo sempre con l'occhio positivo siccome non c'è lavoro c'è crisi c'è il mugugno la gente ha notato che noi artisti siamo diversi noi artisti siamo folli più si è folli più si è artiste dice qualcuno viviamo un mondo diverso allora qualcuno che dice chissà ha quella voglia di entrare nel campo dell'arte non sa dove deve arrivare magari però avere a che fare con l'artista stare con gli artisti è bello perché ci si ride sempre ci si scherza serate conviviali serate danzande ogni manifestazione è seguita da queste manifestazioni diciamo a livello culinario è una vita che io lo dico per me stesso che io sono orgoglioso e contento di fare questa vita è vero cozziamo con la famiglia perché trascuriamo la famiglia e ci sono ogni cosa che va a fin di bene lascia sempre un qualche cosa però i familiari ecco come nel caso mia moglie mi ha capito benissimo meno male ecco è come tanti altri sa che è il mio compito io lascio il campo libero nel suo ecco a lei in quello che fa che lei è un'ottima cuoca ecco io e lei lascia a me il campo libero perché sa che io senza dell'arte muoio allora per non morire ecco ognuno ci fa ognuno i propri compiti è logico con la collaborazione una dell'arte quindi ecco la trascuratezza io trascuro la famiglia un poco perché anche io vorrei stare più tempo con i nipotini vorrei stare più tempo con la moglie vorrei stare con la famiglia ho una bella famiglia io ho tutto come abbiamo detto prima quando ci siamo conosciuti io mi reputo una persona molto fortunata non mi manca niente perché non devi avere perché ci sono dei sentimenti delle cose che vanno al di là di quello che sono i valori materiali ecco sono una persona molto positiva perché poi è tutto quello che ti porti dietro questo parliamo di arte io sono reddice proprio due giorni fa vengo da Napoli dove abbiamo tenuto una mostra che voglio vorrei che mi parlassi di questo perché mentre tu appunto stavamo chiacchierando io ogni tanto guardavo il nostro monitor qua davanti e ho visto che passavano le foto e quindi non volevo interromperti ma volevo che mi parlassi anche di questa insomma iniziativa che state facendo che sta andando alla grande che sta continuando esatto e quindi c'è stata tuttora perché finiamo ad aprile una grande manifestazione già dall'anno scorso organizzata dagli amici campani di Napoletano un omaggio a Totò perché appunto il 15 aprile abbiamo i 50 anni dalla sua morte quindi viene dalla sua scomparsa e quindi è stato festeggiato nell'arco dell'anno per arrivare il 26 di aprile e quindi terremo una mostra dal 26 di aprile al 15 di maggio al Castel dell'Ovo di Napoli e quindi questa è stata una mostra itinerante che è partita dall'Expo di Milano e girando tutta l'Italia ultima abbiamo fatto Napoli però in un'associazione in un palazzo comunale però la fase finale con l'emissione di un bellissimo catalico edito Mondadori che troveremo in tutte le librerie appunto con l'inaugurazione del giorno 26 e una di queste tappe io l'ho voluto fortemente perché mi ha così affascinato appassionato questa mostra di Totò la devo portare nella ridente cittadina di Acquaviva delle Fonti dove io risiedo anche perché diciamo che sarà stato un caso abbiamo una bellissima pizzeria non voglio fare il nome che si chiama il principe lo dovevo fare per forza ho fatto il cognome che ha tante opere di Totò quindi è abbastanza interessante e devo dire è stato così gentile da non ho mai chiesto sponsor nelle mie cose perché non ci sono ha messo a disposizione visto l'importanza la sua infatti lo facciamo di domenica e il suo locale per fare una manifestazione serale con tutto un conviviale con la musica karaoke come dicevo prima tutte le mostre vanno a finire e farò questa bellissima mostra ed è l'unica su selezione perché siccome lo spazio che è al palazzo comunale di Acquaviva non può contenere più di 30 opere perché vanno messe a cavalletto in certo modo perché se no facciamo perché per fare le mostre più da festa ecco io le chiamo da festa perché infatti dall'11 al 14 di aprile sto organizzando come tutti gli anni siamo già alla quinta edizione Bentornata Primavera è una bella rassegna d'arte che io faccio nei vari posti a gioia acquaviva quest'anno la facciamo al palazzo della provincia a Foggia ed è molto ecco in queste mostre io non posso dire tu sì tu no quelle che ci vanno mettiamo perché non sono mostre che devono dire devono fare il curriculum o per la gente per la vendita quindi non si fa una selezione diciamo sono aperte perché dobbiamo dare spazio gioiosa che qualcuno si lamenta però troppi quadri sentite ci sono le mostre dove vanno messe in evidenza le opere con un certo discorso e le mostre per confrontarci per non disperderci perché qui si stanno creando tanti gruppetti tanti focolai di artisti che è sempre che siamo uniti però siamo sempre 4-5 di qua 4-5 di là e non si riesce ad organizzare nulla di buono allora stiamo insieme uniamoci ma siamo ragione confrontiamoci anche tra di noi esatto tra di noi parliamo delle varie tecniche dei vari incontri delle varie mostre che c'è da fare tu devi andare di là io devo andare di qua si cresce si sta bene insieme non siamo sempre pessimisti direi ma quella mostra perché adesso tutti quanti sono diventati che vogliono andare a Milano tutti che vogliono devono andare a Roma tutti che vogliono il critico d'arte ma che cosa servono queste cose qua tornano c'è un tornaconto è quello che insomma non è un periodo ideale se io spendo mille mi ritorno almeno mille perché mille oggi ma qui stiamo andando poi alla mostra viene chi magari in un seguito risposto ad acquistare esatto perché io posso anche anticipare una cifra investire in qualche cosa che in futuro ma se oggi non c'è interesse cioè io faccio parlare il critico per me per l'amico collega siamo solo noi solo gli espositori se io faccio la mostra di due persone mi vengono una decina di persone siano alla mostra ecco se ne faccio una faccio una mostra di 50 60 70 ecco scusami se ti interrompo queste sono parte delle opere di Toto che hai portato sì per Toto questo mi sono un po' sbizzarrito nei miei colori nei miei riempi ecco non ho fatto il solito la fotografia di Toto sì 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 mi sono sbizzarrito ecco qui per esempio questo è molto bello perché vedo con il ragionamento l'anima di Toto imbatti in trasparenza è Toto all'inferno che sono le fiamme che parlo col marchese ecco la classica livella che qui diciamo sì mi sono un po' quindi insomma hai fatto questo percorso percorso queste opere dedicate esclusivamente a lui quindi a Toto perché insomma è diciamo il comico che sono diciamo gli ultimi lavori quindi questi sì Toto sono proprio gli ultimi Toto perché sono ancora in fase infatti finché non arriva il giorno perché io non mi accontento mai ci stai ancora lavorando dovevo farne uno perché uno va in non in concorso in mostra in solo un quadro un quadro solo invece a me dà lo stimolo per fare gli ho fatto già 7-8 di Toto ma continuerò fino al 23 di aprile perché io non sono mai pago di quello che faccio e poi sceglierai quello che magari sceglierò il meno bello non lo so perché alla fine fa così io ho tanti bei quadri quando devo portare un quadro in qualche posto qualcosa penso sempre di aver sbagliato il quadro potevo portare quello perché poi alla fine per me sono tutti uguali perché sono tutti momenti emozioni sensazioni non è il quadro a tema che io devo portare dici devo portare il paese di allora ce l'ho lo porto i miei quadri sono fatti tutte di sensazioni di emozioni quindi uno vale l'altro senti ma usi una tecnica in particolare? acrilico cioè uso di tutto questo è solo acrilico poi uso spatola materia adesso per esempio ultimamente sto facendo dei quadri molto materici perché ecco quasi tutti i pittori poi passano alla scultura ma tra l'altro mi dicevi che anche tu comunque fai tante cose non solo ecco non solo tele cioè io ho tutto quello che è quasi quasi il riciclaggio ecco mi do il riciclaggio che sta andando tantissimo tra l'altro esatto tantissimo quindi faccio delle sedi dei comodini dei lumi tutto quello scarpe cravate cioè faccio di tutto quello che io posso rendere più luminoso più evidente cioè ecco l'evidenza a me piace molto mi chiamano prezzemolo di ogni minestra proprio perché devo stare sempre in mezzo è uno dei tanti difetti che io amo tanto vabbè come tutti gli artisti comunque fai tante cose prima parlavamo addirittura anche della poesia cioè nel senso hai veramente fatto tutto quello che posso fare lo faccio però lo devo fare bene perché tante altre cose mi sono cimentato è come nella vita se io non sono non sto sempre in mezzo all'attenzione di tutti quanti vado in crisi e così quando faccio qualcosa non è che devono piacere le mie opere agli altri ma devono piacere a me se non piace oppure vedo che non va come dico io lo metto da parte non mi propongo con qualcosa che già di per sé io non amo perché so che si è il discorso che facevamo devi stare prima bene con te una cosa deve piacere a te a quel punto trasmetti luce e positività anche agli altri esatto io mi devo mi devo presentare in un modo ecco che già io devo dire sì la mattina sono fa mi guardo allo specchio la canzone dice mi sputino un ecchio dice l'arbore invece io dico beh posso andare oggi posso usci posso iniziare la mia giornata ma mi devo convincere perché se non sono convinto io che magari mi vedo una ruga in più qualche cosa così perché sono fanatico ho la mattina la mattina che ti svegli che ti vedi così dici mamma mia inizi male sto a casa metto il computer è meglio quando mi vedo bene esco fuori quindi non senti cuber il nostro tempo dalla regia ci dicono stop è volato io mi ero fa preparata visto anche il personaggio perché effettivamente una quindicina di domande ne abbiamo fatte tre e ci siamo messi a parlare di tutto e di più vorrà dire che dovremmo fare il secondo il terzo il quarto appuntamento è un piacere magari dedicheremo vedo che anche lei è una persona solare quindi ci troviamo magari dedicheremo una giornata anche al discorso dell'associazione magari divideremo l'artista in quanto cuber con la cuber art quindi io direi di dividere perché anche lì mi farebbe piacere insomma visto che si parla di artisti e proponete artisti nuovi emergenti mi farebbe piacere insomma intraprendere anche questo discorso quando si parla di arte ecco questo salotto io starei qua fino a stasera è vero mi trovo a mio agio ma nei vari progetti c'è una specie di tavola rotonda ecco perché io insisto in queste mostre che parecchi mi condannano ma che dobbiamo parlare dobbiamo il confronto esatto io stasera per esempio ci organizzeremo partecipo ad una mostra una collettiva di pittura sulla donna a Tigiano io non le faccio più queste mostre qua ci vado io le lo dico per l'amicizia per incontrare gli amici la gente no ma queste sono collettive ma lasciate stare se sono tu vai là io incontro le persone l'arte se c'è il quadro più scadente tu vai col tuo quadro vuol dire che chi guarderà il tuo quadro farà la sua considerazione però vado a passare una serata tra artisti tra persone giuste persone che parlano dove si respira un'area particolare l'area particolare quindi io già sto pensando a stasera che devo passare una bella serata e questo è il lato positivo si incomincia a pensare sì però che quadro incomincia a fare una malattia non ho il quadro giusto quello che in quel momento ti ispira di più va bene esatto e salutiamo quindi i nostri amici con questo augurio di ritrovarci presto di rincontrarci qui magari anche in compagnia con più sedie in questa tavola rotonda per parlare sempre di arte che insomma affrontiamo meglio la giornata così iniziamo bene grazie a te grazie a tutti voi che ci avete seguito vi ricordo che ogni settimana ci sarà un artista diverso e quindi entreremo sempre di più nel mondo dell'arte con loro che sono i veri protagonisti grazie a tutti arrivederci